Numeri da record nel 2019 per cancro, primo aiuto, associazione da 20 anni al fianco dei malati oncologici e delle loro famiglie. Il Sodalizio ha raccolto lo scorso anno oltre 1.600.000 euro di donazioni, aiutando così circa 35.000 pazienti nella lotta quotidiana contro il più terribile dei mali. Il bilancio è stato approvato dai soci riuniti online per via delle restrizioni imposte dal coronavirus. Un bilancio molto positivo, abbiamo chiuso bene, in linea con quanto c'eravamo prefissi, tra cancro, primo aiuto e il 3CPA consolidato, abbiamo chiuso con 1.605.000 euro, per cui siamo contenti. Ci sono alcune donazioni che non sono transitate direttamente nel nostro bilancio, c'è circa un altro milione di donazioni che sono andate direttamente agli ospedali, per cui direi che quasi 2.6 è un risultato eccezionale per quanto riguarda anche le dimensioni della nostra associazione. Tanti progetti dunque in particolare per la provincia di Sondrio. Per quanto riguarda la Valtellina, già dal prossimo mese di giugno noi presenteremo due iniziative a favore della Cuccia Rossa, doneremo due automobili nuove, che con la Cuccia Rossa è nato un sodalizio da un paio d'anni a questa parte, veramente sta funzionando e poi doniamo mille buoni pasto a tutti gli operatori sanitari della Valtellina e anche questa mi sembra una bella iniziativa perché è un ringraziamento al duro lavoro che hanno svolto e che stanno ancora peraltro svolgendo. Poi per continuare con le nostre iniziative, chiaramente c'è l'iniziativa dello sci che è forse quella più importante per quanto riguarda la nostra associazione perché è quella che ci permette forse di fare la raccolta maggiore e poi abbiamo l'iniziativa Santiago in Rosa che molti sicuramente conoscono già, un'iniziativa molto importante che ha raggiunto in tutta Europa tante metri. Quest'anno con tutti i problemi che ci sono per spostarsi così abbiamo deciso di farla iniziare a Tirano presso la chiesa di Tirano, il santuario di Tirano e poi andrà a toccare tutte le vette della Valtellina, dal Mortirolo allo Stelio, quelle cose lì. Ecco questo è il riassunto delle cose principali di questa annata ma poi sicuramente con il nostro amministratore delegato Flavio Ferrari ci saranno altre sorprese.